Come si forma una frase nella nostra mente? Si può vedere la struttura di una frase? Dove, quando, come si può imparare la grammatica di una lingua? Proveremo a rispondere a queste e ad altre domande parlando di grammatica valenziale. La grammatica valenziale è un modello efficace per descrivere la struttura delle frasi così come si formano nella nostra mente. Parleremo poi di grammatica implicita, quella che possediamo dentro di noi fin da bambini, perché durante l'infanzia, inconsapevolmente, si è formata semplicemente ascoltando e parlando la lingua nei vari contesti di vita. Per i nostri alunni sarà uno stupore constatare di possedere già una grammatica prima ancora di studiarla a scuola. Per conoscere il modello scientifico, concreto, coinvolgente e motivante della grammatica valenziale, vi aspetto al webinar.